Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione delle TG Mattina con la cronaca truffa del finto incidente. Anziano consegna oro e contanti. Uno dei complici fermato a Rimini dalla stradale con il bottino. Vediamo il servizio. La tecnica utilizzata è sempre la stessa. Si individua la vittima, possibilmente un anziano, con figli, che viva solo. Lo si contatta al telefono spiegando che il figlio o la figlia ha causato un grave incidente stradale e che per evitare che finisca in carcere servono soldi e oggetti preziosi. La vittima spesso entra nel panico e acconsenta le richieste. È la famosa truffa del finto incidente utilizzata l'altro ieri per raggirare un 85enne che vive a Pesaro. A bussare alla sua porta un giovane, poi risultato essere un 22enne napoletano, incaricato dagli ideatori della truffa di recarsi dall'anziano per prelevare contanti, circa 250 euro, e monili in oro. Il campano, diretta a Rimini come da istruzioni dei capi, non immaginava di essere monitorato dagli uomini della squadra mobile di Pesaro, che hanno operato in sinergia con i colleghi riminesi. Quando il napoletano è arrivato a Rimini in taxi, con il bottino nascosto in uno zaino, è stato intercettato in via Flaminia dalla polizia stradale di Riccione, che lo ha arrestato in quasi flagranza per truffa aggravata. Il 22enne napoletano, che vive alle vele di scampia, questa mattina è comparso in tribunale a Rimini per la direttissima. Il giurice ha convalidato l'arresto e disposto al suo trasferimento nel carcere dei Casetti. Il sospetto però è che dietro al giovane, che sarebbe un mero esecutore materiale, si nasconde un'organizzazione dedita le truffe in tutta Italia ai danni degli anziani. Proseguiamo con la cronaca. Un tragico incidente nel primo pomeriggio di martedì è costato la vita alla professoressa Diana Sorini, insegnante al liceo Volta Fellini di Riccione. L'auto della donna si è scontrata frontalmente con un camion guidato da un 36enne lungo la strada nazionale che da Pesaro porta a Urbino, tra le località Cappone e Capponnello di Vallefoglia. Un impatto violento che ha trascinato il veicolo per svariati metri. L'auto ha poi preso fuoco e l'intervento di alcuni residenti con l'estintore a nulla è servito. Immediato l'arrivo anche di polizia locale e vigili del fuoco, ma per la professoressa originaria di Urbino non c'è stato nulla da fare. Dai primi accertamenti sembra che sia stata l'auto ad invadere la corsia opposta all'altezza di una semicurva, impossibile per l'autista del camion evitare l'impatto. Diana Sorini faceva quotidianamente il tragitto da Urbino a Riccione e viceversa per recarsi ad insegnare, ad esprimere il cordoglio per la morte della professoressa e l'amministrazione comunale riccionese che si unisce al profondo dolore della famiglia, dei colleghi, del personale e degli studenti del liceo Voltafellini in cui la professoressa Sorini dedicava il suo impegno e la sua professionalità nella formazione e nella educazione delle nuove generazioni. Tutta l'amministrazione comunale di Riccione si stringe attorno ai familiari della professoressa Diana Sorini, dei colleghi del Voltafellini e dei suoi ragazzi che hanno perso un'insegnante competente e appassionata, dice la vice sindaca del comune di Riccione Sandra Villa. Nelle prime ore di domenica mattina due volanti della polizia di Stato sono intervenute in viale Regina Margherita a seguito di una chiamata in merito ad una rapina. Sul posto i tre ragazzi che avevano chiamato la polizia hanno riferito che mentre erano a bordo della loro auto si erano avvicinate due donne che hanno aperto gli sportelli anteriori dell'auto. Una delle due si è seduta sulle gambe di chi era la guida, l'altra parlava col passeggero e lo palpeggiava. Improvvisamente la donna, seduta sulle gambe del giovane, gli ha strappato dal collo la catenina in oro, lo ha spintonato e ha chiuso lo sportello del veicolo dandosi alla fuga. L'altra invece è fuggita a bordo di un'auto. I poliziotti hanno rintracciato una delle due, una transessuale dopo una ventina di minuti ed è stata subito riconosciuta dai ragazzi come la persona che poco prima aveva strappato la catenina in oro. È stata poi denunciata in stato di libertà per rapina impropria in concorso. Cambiamo adesso argomento. Il tavolo tecnico convocato nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale ha definito la nuova ordinanza balneare delle comune di Rimini, confermato lo schema generale delle norme per la spiaggia con una novità che va incontro al trend di allungamento dell'estate come clima e calendario di eventi. Vediamo. La principale novità dell'ordinanza balneare di Rimini riguarda la durata della stagione. Da giovedì 25 maggio fino a domenica 22 settembre con orario del servizio di salvataggio 9.30-18.30 e prevedendo tra le 12.30 e le 14.30 la possibilità del servizio a torrette alternate. Gli stabilimenti dovranno garantire ai clienti la possibilità di restare in spiaggia e utilizzare i servizi almeno fino alle 22.00. Resta invece vietato l'accesso in spiaggia tra l'una e le 5 del mattino. Gli impianti di illuminazione obbligatori devono restare accesi dal tramonto all'alba. Lo spazio di ombreggio è di almeno 15 metri quadrati per ogni ombrellone con deroga a 12 tra i bagni 99 e 130 di Rimini Sud dove la spiaggia è più stretta. 12 metri sono lo spazio minimo previsto dall'ordinanza regionale. Confermata la possibilità di delivery in spiaggia per i pubblici esercizi e il divieto di vendere bevande in bicchieri di plastica e con cannucce di plastica usa e getta. Per il sesto anno vietato fumare sulla battigia. Confermati gli orari per il bagno in acqua dei cani nelle spiagge già attrezzate per la loro accoglienza. Gli orari sono dalle 6 alle 8 del mattino e dalle 18.40 alle 21 sotto la sorveglianza dei proprietari. Rimini per il terzo anno consecutivo conquista il punteggio massimo nell'ambito dell'iniziativa Comuni Ciclabili 2024. Il tema delle biciclette continua però a creare dibattito tra i riminesi. Sentiamo. Per la terza volta consecutiva Rimini è tra le 60 città italiane ad ottenere la bandiera gialla 2024. Il riconoscimento della federazione italiana ambiente e bicicletta che premia la promozione nei territori della ciclabilità come modello di mobilità sostenibile. Ma nonostante i passi avanti non mancano però i problemi per chi sceglie quotidianamente la bici come mezzo di trasporto. Io se giro con la bici tutti i giorni anche i miei figli sono arrivata a Rimini 18 anni fa e non c'erano tutte queste piste ciclabili. Adesso è bellissimo. Io giro solo con la bici davvero. A me piace molto e secondo me lo merita proprio questa cosa. Molto bike friendly. Diciamo che negli ultimi anni sicuramente si è sviluppata più fruibilità per le biciclette in città. Se non altro sono riusciti a fare quello che potevano con quello che avevano. Nel senso che dovendo adattare delle ciclabili a delle strade che non potevano essere diversamente modificate hanno fatto quello che hanno potuto. Ovviamente tutto si è un po' ristretto però io che vado spesso spessissimo in bicicletta visto che Rimini è una città che questo lo permette essendo tutta piana e adesso ci si sente un pochino più sicuri. Se motorini, pedoni la rispettassero meglio sarebbe naturalmente ancora più consigliabile usarle queste ciclabili però insomma diciamo che facciamo quello che possiamo tutti quanti. Siamo in tanti quindi dobbiamo passare tutti per una strettoia però è migliorata la città. Tanta gente ancora non fa a meno della macchina anche per piccoli tratti mentre invece bisognerebbe secondo me iniziare a fare dei piccoli cambiamenti. Girare in bicicletta c'è un'aria veramente irrespirabile. La vedo ancora molto dura per i riminesi. Prendere la bicicletta soprattutto l'inverno. Io vado spesso in bicicletta dove posso, come posso e cerco di dare il mio contributo all'ambiente. Si è aperta ieri pomeriggio a Rimini la rassegna di arti performative Supernova che fino a domenica proporrà performance e incontri su palchi più o meno ufficiali. Vediamo. Spettacoli, incontri, workshop con Supernova. Il progetto performativo è arrivato alla seconda edizione a cura di Motus e Associazione Sant'Arcangelo dei Teatri con il Comune di Rimini nel sostegno della Regione Emilia-Romagna. A Rimini arrivano in questi giorni alcune delle voci più interessanti della scena artistica contemporanea nazionale ed internazionale in un incrocio di linguaggi performativi diversi e con la proposta di performance in anteprima. Oltre agli spettacoli che vanno in scena in luoghi istituzionali come il Teatro Galli e il Museo della Città, Supernova porta le arti anche in luoghi aperti e accessibili a tutti come Piazza Cavour dove si è tenuto il workshop di apertura dal titolo Le Classics Chic. Un momento aperto alla cittadinanza per dare spazio alla propria espressività anche senza alcuna esperienza. Tanti passanti che si sono lasciati coinvolgere, tra i partecipanti anche un giovane neolaureato in infermieristica che potrà dire di aver celebrato il risultato in un modo davvero originale. E passiamo adesso allo sport. Il grande tennis femminile torna al tennis club Viserba con un 15 mila dollari tf in calendario a luglio. Intanto il club che domenica sera sarà ospite della trasmissione Rai la domenica sportiva si prepara all'esordio della squadra maschile di B1. Vediamo. Il grande tennis femminile torna al tennis club Viserba. Dal 22 al 28 luglio sui campi in terra rossa del circolo riminese si svolgerà infatti un torneo internazionale ITF da 15 mila dollari. Un orgoglio grandissimo per il circolo tennis di Viserba ma per la città tutta mi viene da dire. Finalmente dopo dieci anni riportiamo a casa a Viserba un torneo ITF femminile che era il nostro obiettivo. Conferma di poche ore fa e che ci vedrà adesso impegnati in un'organizzazione di sostanza. Presenti alla conferenza stampa di apertura della stagione 2024 il sindaco di Rimini Jamile Sadegolvad e l'assessore allo sport Michele Lari ex tennista. Domenica 21 aprile il tennis club Viserba che ha superato i 300 iscritti sarà ospite della domenica sportiva. Mentre domenica 28 aprile farà il suo esordio stagionale la squadra di B1 maschile che ospiterà Montecatini. Un campionato anche quest'anno difficile perché ci sono tante squadre attrezzate per cercare la scalata in A2. Noi altrettanto siamo pronti perché i ragazzi sono in forma e stanno giocando bene. Tranne una che ha dei giocatori che sono leggermente al di sopra del nostro livello tutte le altre squadre sono al nostro livello. Sta iniziando a dare i primi frutti significativi anche la scelta del club di costruire tre anni fa due campi da padel e di inserire le attività tra quelle del circolo. Oggi abbiamo raddoppiato i numeri e le ore di lezione anche nei corsi adulti sono importantissime. Abbiamo più di 130 iscritti fra gli adulti e 25 nella scuola addestramento padel. È un risultato che ci inorgoglisce e secondo noi è ancora di più la conferma che abbiamo messo il tassello per lo sviluppo del padel come uno sport stabile per il futuro. Penultima puntata stagionale di Icaro Volley martedì scorso su Icaro TV. Ospiti il dirigente scoutman della Lasersoft Riccione Francesco Stefanini e il vicepresidente di Riccione Volley Lorenzo Perlini che sottolineano l'aiuto e l'ascolto che si possono dare agli atleti e alle atlete anche fuori dal campo. Presenta anche l'allenatrice di figurella Rimini Volley Chiara Gambuti che fa invece una riflessione sull'importanza di mettersi sempre in discussione. Sentiamo. Come ho detto prima ogni tanto un po' come a scuola i professori fanno sempre un po' si sostituiscono una volta le famiglie si devono interessare dei ragazzi anche fuori. Sì è chiaro. Qual è il confine? Sì diciamo che più sali di livello diciamo professionistico nella pallavolo queste cose entrano un po' meno quindi in base anche alla categoria però comunque anche a livello di serie B si notano insomma nelle giocatrici quando c'è qualcosa che insomma che va storto che non va e si si cerca insomma per quello che si può di capire insomma. Non è sempre facile intervenire su determinate dinamiche soprattutto ripeto con le ragazze quindi bisogna andarci sempre con calma. È logico che se non stanno bene in palestra un problema c'è quindi va affrontato. Mi aveva colpito una tua frase che hai detto una volta. Mettersi in discussione è la cosa che più apprezzo in un gruppo. Sì. Da tutti i punti di vista. Cioè dire magari mi sono allenato però forse non mi sono allenato bene. Sì. Da questo punto di vista qui. Diciamo che sia noi dello staff che le giocatrici finito l'allenamento ci vogliamo chiedere oggi ho dato tutto, oggi cosa ho fatto di buono e cosa posso migliorare. Vediamo adesso la situazione delle meteo per la giornata di oggi e apriamo con una allerta diramata dalla protezione civile regionale dell'Emilia Romagna che per la provincia di Rimini è arancione per vento e gialla per temporali stato del mare e criticità costiera. Sono previsti infatti venti da burrasca moderata e forte da nord-est con rinforzi sul settore costiero e crinale appenninico. Il mare sarà a largo da molto mosso ad agitato con localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale. Si raccomanda quindi di prestare attenzione a strutture in esterno, gazebo e quant'altro possa essere soggetto al vento. Le temperature già ieri ritornate ai valori delle medie stagionali oggi scenderanno ulteriormente. E allora vediamo qual è la situazione del tempo per la giornata cominciando dalla regione. Tempo perturbato con cielo nuvoloso e precipitazioni diffuse su tutto il territorio anche a carattere di rovescio temporalesco in graduale attenuazione sul settore occidentale nel corso del tardo pomeriggio. Deboli nevicate attorno ai 1200 metri lungo tutti i rilievi appenninici. Temperature minime comprese tra 7 e 10 gradi in diminuzione le massime comprese tra 12 e 15. Vediamo il dettaglio sulla provincia di Rimini. Una giornata di pioggia sia sul settore costiero che sui rilievi. Pioggia più deboli in mattinata nel primo pomeriggio invece più intensa dalla sera. Le massime si attesteranno attorno ai 14 gradi e per quanto riguarda l'area costiera più basse e massime di 8 gradi invece sui rilievi. E così siamo arrivati in chiusura con l'appuntamento con l'informazione di questa mattina. Come sempre vi ringrazio per essere stati con noi. Vi invito a rimanere ancora su Icaro perché tra pochi minuti Simona Mulazzani e Andrea Polazzi vi terranno compagnia con tempo reale tutti gli approfondimenti delle notizie della giornata. Noi invece ci ritroviamo verso le 10 con Io ne ho lette cose, la rassegna stampa dedicata al sociale e alla cultura. Oggi parleremo dell'iniziativa Mille Orti per il turismo che coinvolge sociale e appunto turismo, il mondo alberghiero. E poi come sempre a fine mattinata Max Alberici e Matteo Munaretto con Faccio Cose e Vedo Gente. Buona giornata.